Un posto al sole, anticipazioni dal 7 novembre, Roberto rischia per salvare Marina. Le anticipazioni di un posto al sole dal 7 all'11 novembre 2022 rivelano che per Roberto Ferri arriverà il momento di passare all'azione e di mettersi all'opera per cercare di salvare la vita alla sua amata Marina Giordano. Spazio anche alle vicende di Rossella che, in questi nuovi episodi con la SOP, si ritroverà a fare i conti con la gelosia preoccupante del suo fidanzato Riccardo. Viola, invece, continuerà ad occuparsi delle vicende di Damiano e sarà sempre più preoccupata dal modo di fare dell'ex moglie del poliziotto. Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di un posto al sole fino all'11 novembre 2022 rivelano che Roberto Ferri comincerà a rendersi conto che dietro la sparizione nel nulla di Marina, si cela lo zampino del suo ex Fabrizio. Ferri si dirà convinto al 100% del fatto che la donna sia vittima nelle mani del suo pericoloso ex marito. Motivo per quale deciderà di passare all'azione. E, in un primo momento, Roberto esporrà i suoi piani a Franco e Filippo, sperando di poter contare sul loro supporto. Peccato, però, che entrambi lo esorteranno a tirarsi fuori da questa vicenda e quindi a lasciar perdere possibili azioni che potrebbero avere un esito nefasto. Le anticipazioni di un posto al sole, però, rivelano che Roberto non avrà nessuna intenzione di farsi scoraggiare e andrà avanti per la sua strada. Nel corso delle 6 puntate, l'uomo metterà all'opera per con il suo pianoforte studiato che gli permetterà di mettere in salvo Marina. Roberto, incurante del pericolo che sta correndo, deciderà di rischiare la vita pur di salvare la sua amata Marina, riuscirà ad uscirne indenne oppure la follia di Fabrizio avrà delle conseguenze gravi anche sulla salute di Ferri. E poi ancora, gli spoiler della prossima settimana di messa in onda della soap opera serale in onda su Rai 3. Rivelano che Rossella si ritroverà al centro di una situazione sempre più complicata da gestire. Da un lato, infatti, la ragazza è delusa dopo aver scoperto che i suoi genitori hanno scelto di divorziare ma non le hanno detto nulla. Dall'altro lato deve confrontarsi con l'eccessiva gelosia di Riccardo. Il fidanzato di Rossella comincerà ad essere sempre più possessivo e geloso nei confronti della ragazza. Tanto da preoccupare anche i suoi familiari. Occhi puntati anche su Viola, le anticipazioni di un posto al sole all'11 novembre 2022 rivelano che la donna continuerà a seguire il caso di Damiano. Sempre più irrotta di collisione con sua moglie, per l'educazione da dare al figlio.